... Sinceramente non ho capito molto bene, cioè l'insegnante stava, era in palestra con il bimbo, si era un attimo allontanata per aprire la finestra, il bambino in un attimo, è successo in un attimo, l'insegnante è un'insegnante molto brava, quindi un attimo di distrazione per far succedere tutto questo. Grazie per l'incidente, però il bambino sta bene. Il bambino sta bene, quindi questa è la cosa più importante. Quanti anni ha il bambino? Quattro. I familiari sono stati avvisati? I genitori sono stati avvisati subito, infatti la mamma è andata in ambulanza con lui. Sa che cosa ha riportato il bambino? Contuzioni? No, non so niente. Era vigile? Assolutamente sì, era vigile, urlava dal dolore. La stanza qui è una palestra, non è un'aula che cos'è quella stanza? Non è una palestra, è una palestra che di solito si va per fare attività motoria con i bimbi e a volte si portano i bambini un po' difficili, un po' particolari, giusto per fare delle attività. Gli altri bambini sono tornati a casa con i genitori? No, gli altri bambini sono a scuola, sì sì, abbiamo cercato di tenerli tranquilli, naturalmente il nostro ruolo questo è perché i bambini si sono accorti. Stavamo per andare fuori, mi hanno detto non possiamo perché c'è un'ambulanza, un bambino è caduto, ma non abbiamo detto è caduto dalla finestra naturalmente, è caduto, si è fatto male, quindi assolutamente i bambini abbiamo cercato di tutelarli e di farli stare tranquilli come giusto che sia. Ogni tanto che venivo al mattino vedevo sempre questa finestra qua davanti aperta e mi sono detta ma potrebbe capitare una tragedia, infatti in questo momento ho sentito. Ma il bambino lo conoscete? Non ho idea ancora perché ho appena sentito la finestra. È un bimbo di colore, infatti lo vedevo sempre in finestra lì, quando venivo a portare il mio bimbo qua davanti, se è successo qua davanti. Mi dispiace, speriamo che il bambino sta bene, si riprende, speriamo. Sì, non è così. Il bambino lo vedeva sempre affacciato alla finestra? Sì, 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 quando venivo, anzi, cioè, volevo chiedere al maestro come mai che è sempre in finestra qua e me lo immaginavo che è di colore.